Quando Sony decise di affacciarsi all'industria videoludica con la sua prima PlayStation, in pochi si sarebbero potuti immaginare l'incredibile successo che la compagnia nipponica avrebbe ottenuto in tutto il mondo. Con le sue 102 milioni e passa di unità vendute, Sony, grazie a PS1, non solo riuscì a prendere il posto di Sega come compagnia hardware, che con il suo Dreamcast prese un durissimo colpo a livello commerciale, ma divenne anche la proverbiale spina nel fianco di Nintendo, che con i suoi 33 milioni di Nintendo 64 venduti si vide strappare di mano il proverbiale scettro di leader del mercato. Quel successo tanto palpabile fu legato ai più svariati motivi, l'attuazione di una concorrenza spietata tra giochi terze parti in esclusiva e team acquisiti in toto, l'adozione del supporto CD che permise di sviluppare giochi più complessi senza incorrere in costi esorbitanti e anche la facilità con cui la console poteva essere modificata, con la conseguente nascita di un vero e proprio mercato illegale di titoli rimasterizzati che ai tempi appariva semplicemente inarrestabile. Il tutto con alla base un concetto, un ideale di profondo rispetto nei confronti del giocatore. La compagna nipponica voleva i soldi del pubblico, certo, ma per ottenerli punto a valorizzare i bisogni dell'utente, in particolar modo di quello più adulto, puntando su un sistema videoludico in cui qualità e varietà di esperienze fossero le colonne portanti del mercato. Se negli anni Ottanta Nintendo era riuscita a far risorgere l'industria videoludica associando il videogioco all'immaginario del giocattolo perfetto per ogni bambino, all'alba del ventunesimo secolo Sony fece un ulteriore passo in avanti, dando ampio spazio a un'industria che non fosse solo indirizzata a più giovani, bensì anche al pubblico più adulto. Sia chiaro, questo non significa assolutamente che prima di Sony non fossero stati sviluppati prodotti pensati per l'utenza più matura, ma è indubbio che l'arrivo di PS1 abbia segnato il proliferare di un mercato sempre più vasto dove i videogiochi potevano davvero toccare i gusti di tutti. E con il passare degli anni i titoli e l'AP di impatto non fecero altro che aumentare. Il sopraggiungere di PlayStation 2 rappresentò un altro momento estremamente importante per Sony, una fase storica dove la società riuscì a imporsi definitivamente sul mercato sbaraiando la concorrenza, tra una Nintendo che cercava faticosamente di non perdere terreno e una Microsoft appena affacciatasi al mercato che con la sua neonata Xbox si stava guadagnando un suo spazio. Sta di fatto che PS2 fu la console di sesta generazione, la macchina imperdibile per chiunque si volesse definire un vero videogiocatore, un hardware che con oltre 158 milioni di pezzi venduti in ogni angolo del globo potè trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento del gaming agli occhi di tutti, anche di chi non aveva la minima conoscenza dell'industria, con genitori, nonni e lontani parenti sicuri del fatto che l'intero mercato videoludico fosse solo in mano a PlayStation. Insomma, Sony aveva raggiunto la sua vetta, sembrava inarrestabile, e forse, proprio per questo, finì con il farsi prendere dall'arroganza. Dopo aver ottenuto due successi tanteclatanti, la grande S era infatti sicura del fatto che il mercato multipiatta avrebbe fatto carte false pur di sviluppare sul suo hardware, qualunque esso fosse stato, e fu da questa malsana idea che PlayStation 3 vide la luce. Una console a tratti avvenieristica, un vero e proprio centro multimediale dall'architettura estremamente potente, ma anche maledettamente difficile da sfruttare appieno. Bastò davvero poco per rendersi conto di quanto PS3 fosse un vero bordello. Programmarci sopra videogiochi era così complicato che nessuno, o quasi nessuno, pote davvero utilizzarla al massimo del suo potenziale. Non a caso, innumerevoli giochi multipiattaforma giunsero su PlayStation 3 in uno stato pietoso, spesso e volentieri, con performance ben al di sotto delle controparti Xbox 360. Tra i tanti esempi che si potrebbero fare, prendo sempre in esame Mass Effect 3 e i suoi 20 fps di media. Aggiungiamo poi a questo disastro un prezzo di lancio fuori mercato, una concorrenza che aveva trovato la sua quadra, e una line-up ben poco brillante, ed ecco fatta la frittata. Una console incapace di convincere, un mercato che si stava spostando verso la concorrenza, un pubblico preoccupato per il futuro. Addirittura le pubblicità della consola apparivano confuse e poco sensate, sembrava davvero che i guai di Sony fossero insormontabili. E invece, alla fine, il miracolo. Uno degli aspetti più interessanti dell'epoca PS3 fu la capacità, da parte della grande S, di salvarsi all'ultimo minuto, trasformando quello che sembrava essere un disastro annunciato in una delle più importanti rimonte della storia videoludica. Come è possibile? Beh, ci sono due motivi. In primis, la compagnia nipponica, resasi conto della cazzata fatta, cambiò immediatamente la sua strategia. Il prezzo della console era troppo alto? Bene. Nonostante stia venendo già venduta in perdita, tagliamo ulteriormente il prezzo per renderla effettivamente competitiva. Sviluppare sulla nostra console richiede troppe energie? Bene. Offriamo investimenti aggiuntivi per convincere i team a lavorare anche con noi. La nostra line-up esclusive non è all'altezza delle aspettative? Bene. Allora puntiamo a creare il parco titoli PlayStation Exclusives più ricco che si sia mai visto prima. Lavoriamo su dei grandi AAA che possano essere ricordati per anni e anni, tiriamo fuori dal cilindro tanti titoli minori che possano variegare l'offerta, seguiamo l'esempio di Microsoft e cominciamo a dare maggior spazio al mercato indie. Secondariamente, invece, si mise di mezzo anche il proverbiale fattore culo, con il famoso anello della morte. Se non sapete di cosa sto parlando, i primi modelli di Xbox 360 presentavano una falla di progettazione hardware davvero gigantesca. Nello specifico, la console utilizzava dei connettori incapaci di reggere il surriscaldamento della console in caso di lunghe sessioni in partita. Alle volte bastavano pochi mesi di gioco per bruciare l'intero sistema. E quando ciò accadeva, la console ti avvertiva con questo anello rosso, il Ring of Death, come venne ben presto soprannominato dal pubblico. Parliamo di un problema enorme e gigantesco fuori scala. Si conta che ai tempi circa il 50-70% dell'Xbox 360 immesse sul mercato, ovviamente facendo sempre riferimento ai primi modelli, abbiano sofferto di questo malfunzionamento. Milioni di console fallate che si tradussero in miliardi di dollari che Microsoft dovette spendere, cifre inimmaginabili che costrinsero la compagnia a bloccare progetti, chiudere rapporti con terze parti, interrompere lo sviluppo di titoli first party. In generale furono costretti a rallentare enormemente. Il tutto affiancato poi da un pubblico che oramai guardava al market Xbox con sfiducia. infastidito dalla grande attenzione data alla periferica di movimento Kinect in sfavore dei titoli più hardcore da una parte e il bestialito dal repentino abbandono della settima generazione di console portato avanti da Microsoft per concentrarsi il prima possibile su quella che sarebbe stata la next gen. Ed è proprio così che se da una parte si sentivano urla, schiamazzi e malcontento generale, dall'altro lato si potè godere fino all'ultimo istante di un parco esclusivo e sconfinate e pieno zeppo di brand che ancora oggi vengono ricordati con grande affetto. Il motivo per cui vi sto raccontando in maniera molto riassunta la storia di PlayStation, quantomeno in ambito console fisse, è che per capire il perché del titolo di questo video bisogna innanzitutto capire lo stato d'animo dell'affezionato PlayStation, dei videogiocatori che, come me, sono cresciuti con Sony fin dai tempi della PS1. L'ecosistema creatosi attorno alla Play, per quanto assolutamente non esente da difetti, aveva posto gli interessi dei giocatori più hardcore al primo posto. Con la sua filosofia nipponica, la compagnia decise sì di diventare il punto di riferimento per le grandi esperienze single player, ma anche per le produzioni fuori dagli schemi, per le opere desiderose di sperimentare. Sony aveva creato una fanbase ben specifica, l'aveva ampliata in modo smisurato, facendole sentire anche un certo senso d'orgoglio a far parte della famiglia PlayStation, e ora la stava cullando in un confortevole abbraccio. Ed è proprio in questo contesto, così positivo per il brand, che giunse il colpo di grazia. Nel bene, certo, ma anche nel male. Poiché se da una parte è vero che l'epoca PS4 ha definitivamente consacrato il brand PlayStation nell'olimpo del gaming, dall'altro lato ne ha anche segnato il lento e rovinoso declino. Inutile girarci tanto attorno, l'ottava generazione videoludica è stata vinta da Sony ancora prima che questa iniziasse. Per la prima volta nella storia entrambe le concorrenti di PlayStation si ammazzarono letteralmente da sole. Da una parte c'era Nintendo, che dopo aver sbaraiato tutti con il suo Wii, la console dei casual gamer per eccellenza, pensò di poter replicare il successo fatto anche con il suo Wii U. Il risultato? Dall'altro lato invece trovammo una Microsoft che... non lo so ragazzi, diede completamente di matto. L'annuncio di Xbox One fu il più grande disastro comunicativo della storia del gaming. Costava più della concorrenza, si poteva attivare solo utilizzando il Kinect, non permetteva di giocare titoli usati, richiedeva un check online ogni 24 ore, pena il blocco totale della console, si configurava come una console per videogiocare dove i videogiochi parevano essere l'ultimo degli interessi per la compagnia americana. I meme sul web giunsero a valanga. Anche la stessa Sony sfruttò la situazione a proprio vantaggio colpendo nel modo giusto e al momento giusto. Molti di voi ricorderanno sicuramente la famosa guida per condividere un gioco con un amico su PlayStation 4, ma ancora più persone avranno ben scolpita nel cervello la presentazione stessa di PS4. Alla fine Microsoft si rese conto della cazzata fatta e fece un grosso passo indietro, ma oramai il danno era fatto. Xbox One morì ancora prima di uscire, mentre il Wii U non sembrava interessare neanche alla fanbase Nintendo. Rimaneva solo PS4, una PS4 che infatti vendette come il pane fin dal Day One, nonostante una line-up di lancio che fu il vuoto cosmico, affiancata da quei due primi anni di vita next-gen che furono altrettanto vuoti. A ben vedere, Sony avrebbe potuto superare la generazione praticamente per inerzia, anche non facendo assolutamente nulla, con il minimo impegno. La consapevolezza di essere l'unica opzione ai tempi di star combattendo letteralmente da sola la mise nella posizione di fare il bello e il cattivo tempo. Ma la divisione nipponica della compagnia preferì non adagiarsi sugli allori e assicurarsi che PS4 potesse vantare una line-up esclusive di tutto valore, seppur con una filosofia sostanzialmente diversa rispetto al passato. Con un violento colpo di spugna, Sony decise infatti di dire addio alle produzioni minori. I titoli incapaci di generare enormi entrate sul medio periodo vennero via via abbandonate per far posto solo a AAA in grado di generare incassi da record. In parole povere, più Spider-Man e meno Pup Tier. Tanto God of War e poco Resistance, una marea di Horizon a discapito di Gravity Rush. In un certo senso, PS4 fu il momento in cui Sony fece la sua mossa alla Ubisoft, standardizzando gran parte delle proprie produzioni interne in un unico enorme calderone, ovvero quello degli action-adventure story-driven. La scelta intrapresa non piacca a tutti e anzi, una grossa fetta di pubblico, me compreso, rimase assai deluso da questo appiattimento di generi. Ma in generale tutti finimmo con l'ingoiare quel bocconi amaro, visto che comunque la qualità delle produzioni esclusive Sony rimase di altissimo livello. Marvel Spider-Man, God of War, Bloodborne, Days Gone, Uncharted 4, The Last of Us Part 2, PS4 tirò fuori dal cilindro una valanga di produzioni imperdibili che in accoppiata con il motto For the Players seppe galvanizzare il pubblico pagante. Eppure fu proprio nel pieno dell'era PlayStation 4 che avvenne il disastro, un evento inizialmente passato quasi in sordina, ma che poi, negli anni a venire, in particolare a partire dall'attuale current gen, avrebbe distrutto tutto ciò che il marchio PlayStation aveva concretizzato in vent'anni di duro lavoro. E ovviamente sto parlando della ristrutturazione di Sony Interactive Entertainment avvenuta nel 2016 e rappresentante il momento in cui il controllo dell'intera divisione videoludica della compagnia passò dalle mani della sezione nipponica a quella americana, un lungo processo che si concluse davvero solo nel 2019, quando Jim Ryan ne divenne il nuovo CEO. Eccoci così all'alba di una nuova era, PlayStation 5 indirittura d'arrivo e promette un'altra generazione incredibile. Ovviamente il pubblico appare molto fiducioso d'altronde in oltre due decadi tra alti e bassi il marchio PlayStation non aveva mai sbagliato un colpo. Come sarebbe mai stato possibile fallire adesso? Non ho intenzione di indorare la pillola. Questi primi tre anni di PS5 sono stati semplicemente disastrosi, un susseguirsi di azioni, eventi e decisioni pessime che stanno lentamente ma inesorabilmente distruggendo tutto ciò che Sony ha rappresentato nell'industria del gaming. Sotto la dirigenza capitanata da Ryan infatti Sony ha dato il via a una vera e propria campagna avvolta al guadagno immediato fatta di scelte anti-consumer affiancate da una delle più confusionarie strategie marketing che si siano mai viste. Letteralmente tutto quel che si poteva sbagliare è stato sbagliato. Vi sembra che stia esagerando? Beh, ma allora prendiamoci un momento e ripercorriamo insieme tutto ciò che Sony ha fatto tra il 2020 e il 2022. Mettetevi comodi. Aumento del prezzo delle proprie esclusive di 10 euro. Aumento del costo della console di 50 euro. Cambio nel funzionamento degli aggiornamenti dei giochi dalla versione PS4 a quella PS5. inizialmente gratuiti ma poi divenuti a pagamento per le esclusive PlayStation dopo l'uscita di Horizon Forbidden West. Per due anni le PS5 sono state estremamente difficili da trovare e i bagarini hanno regnato in contrastati visto che Sony non ha mai tentato di fare nulla per complicargli la vita. Totale abbandono di qualsivoglia progetto minore in favore delle sole produzioni AAA più grandi con conseguente chiusura di team e titoli in sviluppo Pixel Opus Manchester Studio Japan Studio che è una ferita ancora aperta. Comunicazione discontinua tra State of Play dimenticabili e pochi PlayStation Showcase il tutto accompagnato dalla scelta di non legarsi in alcun modo agli eventi videoludici annuali più importanti Summer Game Fest Gamescom addirittura il Tokyo Game Show Annunci di spessore relegate al PlayStation Blog o a discutibili post sull'ex Twitter i dissapori nati con Ben Studio dopo la cancellazione di Days Gone 2 l'incomprensibile decisione di abbandonare totalmente l'IP di Bloodborne senza offrire neanche una versione PS5 nonostante siano anni che il pubblico la chiede a gran voce fortuna però che invece sia arrivata la versione PS5 del primo della Stovass ovviamente venduta 80 euro perché tanto oramai ogni occasione per spennare la propria utenza è sempre buona creazione di un nuovo abbonamento a più livelli sicuramente interessante con il suo plus extra ma disastroso per quanto riguardava il plus premium poco supportato molto costoso e con giochi PS3 disponibili solo in streaming poiché Sony non si è mai degnata di investire denaro per un vero e proprio emulatore da poter utilizzare su PS5 tra l'altro merita di essere menzionato il fatto che questa nuova versione del plus andò a sostituire il PlayStation Now abbonamento che già ai tempi seguiva la filosofia del Game Pass ma visto che costava meno e offriva di più del nuovo plus venne ovviamente cancellato abbiamo visto anche il tentativo di chiudere gli store PS3, PSP e PS Vita decisione che fortunatamente è stata ritrattata nel momento in cui il pubblico ha dato di matto sui social che poi in realtà ritrattata solo in parte gli store PS3 e PS Vita sono rimasti mentre purtroppo quello PSP è stato definitivamente chiuso gestione marketing del PlayStation VR 2 semplicemente imbarazzante praticamente non ci credevano manco loro nel successo di quella periferica l'enorme casino mediatico venutosi a creare con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft con una Sony ritrovatasi a rasentare livelli di pateticità mai visti prima acquisizione a cui Sony si oppose ricordiamolo adducendo al desiderio di voler proteggere i videogiocatori dalla cattiva Microsoft che avrebbe potuto applicare i rincari su videogiochi e console gli stessi rincari che però proprio Sony aveva già applicato durante la generazione ironico vero? nel corso di quest'ultima generazione la grande S ha pure deciso di aprirsi al mercato PC per aumentare il proprio pubblico un'idea molto interessante sulla carta e che avrebbe permesso a tanti nuovi giocatori di potersi avvicinare all'ecosistema PlayStation peccato solo che le conversioni dei titoli siano state abbastanza altalenanti tra grandi lavori e grandi cagate con Returnal e God of War la conversione messa in mostra è stata ottima con Horizon Zero Dawn e The Last of Us invece beh non troppo insomma credo di avervi delineato un bel quadretto e di alcune cose non vi ho neanche fatto menzione sta di fatto che nei primi due anni di generazione c'è solo un dettaglio un elemento che mi sento di salvare ovvero i videogiochi a onor del vero qualcuno potrebbe avere da ridire anche in questo senso visto che la maggior parte dei titoli PlayStation usciti erano cross-gen e quindi disponibili anche su PS4 ma a me quell'aspetto poco importa ciò che mi interessa è che i titoli effettivamente arrivino e con PS5 ne sono arrivati parecchi fin dal lancio Sony ha saputo cadenzare molto bene le sue uscite tra titoli first party terze parti in esclusiva temporale e in divari buona line up buona la varietà ottima la qualità Miles Morales Demon's Souls Sackboy A Big Adventure Returnal Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 Ratchet & Clank Rift Apart Ovviamente non è mancato qualche buco nell'acqua si pensi a Godfall o a Destructional Stars ma in generale non posso davvero lamentarmi soprattutto se ripenso ai primi due anni di nulla assoluto che avemmo con PS4 Quella delineatasi alla fine del 2022 restava però una situazione preoccupante sembrava davvero che Sony stesse imboccando la strada per il disastro ma comunque sia speravamo tutti per il meglio speravamo che la compagnia sarebbe in qualche modo rinsavita dopo così tanti errori e invece in questo 2023 è andata pure peggio ebbene sì questi ultimi 12 mesi si stanno configurando come la peggiore annata della storia PlayStation a mani basse un anno in cui letteralmente non si salva nulla ripercorrendo gli eventi più o meno recenti troviamo ad esempio il lancio del PlayStation VR 2 una periferica tecnologicamente splendida che Sony sembra aver già abbandonato un mese ed è totalmente sparita trattata malissimo produzione di first party completamente scomparse minuscole presentazioni di giochi durante gli state of play e poco altro letteralmente una presa in giro per chiunque abbia deciso di dargli fiducia ma c'è stato anche l'ormai tristemente famoso aumento di prezzo del plus che a detta di Sony servirà per portare qualità nel servizio salvo poi essere smentita da un plus premium che continua ad essere una scammata in mane da una selezione di giochi offerti nel servizio plus essential che rappresenta la quintessenza della merda e dalla cancellazione della plus collection quell'apprezzabile catalogo composto da una ventina di giochi offerti automaticamente a chiunque avesse il plus un'offerta evidentemente troppo pro consumatore per essere tenuta in piedi in pratica nel 2023 il plus costa molto di più a fronte di un'offerta minore e qualitativamente assai altalenante bella cagata abbiamo visto poi importanti investimenti indirizzati non più verso le produzioni single player esclusive che da sempre rappresentavano il cuore pulsante della compagnia ciò che ha dato identità al marchio playstation concretizzandone la fortuna sul mercato bensì verso live service e game as a service più di 2 miliardi investiti l'acquisizione di numerosi team improntati ai titoli multiplayer 12 game as a service in sviluppo un vero e proprio dito medio sparato in faccia a qualsiasi fan storico di playstation e come dimenticare poi i playstation portal questo dual sense spezzato con uno schermo in mezzo manco oled che per 220 euro offre ciò che potresti fare meglio con un qualsiasi dispositivo mobile una periferica senza un pubblico di riferimento estremamente limitata nell'utilizzo che funziona solo se si possiede una ps5 perennemente accesa e connessa al wifi non in grado neanche di farti usare i giochi del plus premium che costa una madonna e senza bluetooth praticamente un'inculata già annunciata tra l'altro questo si è rivelato anche come l'anno del silenzio per così dire a livello di eventi il 2023 è stato veramente pessimo per sony non solo abbiamo avuto giusto un paio di state of play dimenticabilissimi ma il grande playstation showcase che aspettavamo ormai da due anni beh ha fatto cagare o meglio è stato un piacevolissimo evento dedicato ai videogiochi ma un pessimo evento dedicato a playstation l'ennesimo fallimento comunicativo in un anno dove di fallimenti se ne stavano già inanellando fin troppi e infatti il fallimento più grande di questo 2023 lo troviamo proprio sotto il profilo videogiochi dove sony boh ragazzi non pervenuta certo sappiamo tutti che a fine anno avremo spiderman 2 quello che sembrerebbe essere un incredibile spiderman 2 ma non basta un titolo solo per risollevare un anno di nulla lato playstation studios abbiamo avuto solo un dlc per horizon forbidden west mentre in ambito terze parti vi è stata giusto square enix con un forespoken davvero da dimenticare e un final fantasy 16 che pur essendomi piaciuto non poco ha mostrato diversi difetti non a caso la community si è molto divisa nei suoi confronti quella che sembra essersi mostrata in questo 2023 ma anche negli anni scorsi è una sony priva di lungimiranza disinteressata a preparare un piano funzionale sul lungo periodo per concentrarsi piuttosto sul presente il tutto finalizzata a guadagnare il quanto più possibile nel minor tempo possibile ed è proprio questo il punto focale della questione il motivo per cui sony sta uccidendo lentamente la sua stessa creatura un occhio poco attento potrebbe infatti pensare che playstation sta andando alla grande che sia in piena salute perché effettivamente playstation 5 sta vendendo bene oggettivamente sta facendo dei gran bei numeri ma sta vendendo non per qualità della console bensì per ciò che il marchio playstation rappresenta per il pubblico sony è rimasta sulla cresta dell'onda fin da quando si è lanciata nel mondo videoludico ha creato una community una fanbase estremamente fidelizzata che ha sempre tenuto alto il nome della compagnia di fatto contribuendo a rendere il marchio playstation estremamente riconoscibile anche agli occhi del pubblico più casual oggi playstation vende più per il nome che non per il contenuto ma nel mentre che vende unità dopo unità sta portando avanti una strategia tutta votata ad andare contro la propria fanbase più affiatata siamo davanti alla proverbiale corda che a forza di tirarla finirà con lo spezzarsi sony è riuscita a renderla molto robusta ma non è indistruttibile e pian piano si sta rovinando gli aumenti di prezzi ingiustificati i game as a service che prendono il posto delle vecchie produzioni single player le dichiarazioni poco lucide le periferiche messe sul mercato solo per poi essere immediatamente abbandonate se da una parte è in dubbio che tanti fanboy sarebbero pronti a farsi crocifiggere piuttosto che ad ammettere la gravosità della situazione e questo lo vediamo sia in casa playstation che in ambito xbox e nintendo è altrettanto vero che il malcontento generale si sta facendo sempre più palpabile lo zoccolo duro di utenza playstation si sta sempre più inclinando e se sony continuerà a seguire questa chiamiamola strategia gli effetti che ne conseguiranno saranno disastrosi non tanto nell'immediato quanto piuttosto nel medio o lungo periodo anche perché attenti ragazzi non dimentichiamoci che oggi sony deve affrontare una concorrenza che non è più quella affrontata sette o dotto anni fa da una parte abbiamo infatti una nintendo che con switch sta letteralmente volando oltre la stratosfera soprattutto in quel giappone che un tempo era il mercato di punta dell'ecosistema playstation mentre dall'altro lato troviamo una microsoft che sta facendo passi da gigante per recuperare il terreno perso con xbox one più agguerrita più determinata con una strategia ben chiara in mente e pronta a investire in genti capitali su un game pass dalla qualità oggettivamente fuori scala nel mentre che microsoft e nintendo caricano a testa bassa il mercato puntando ai giocatori e cercando di offrire il massimo con i propri ecosistemi non senza scivoloni nel mentre sia chiaro ci ritroviamo con una sony ferma stagnante silenziosa che sembra voler fare tutto ciò che possa andar contro il proprio pubblico io da videogiocatore che ha sempre amato playstation fin dall'epoca della prima indimenticabile ps1 mi sento onestamente tradito insultato dal modo in cui sony sta portando avanti questa generazione insultato dal modo in cui sta trattando tutti noi utenti ricordo bene che quando ps5 venne annunciata ero totalmente in estasi cavoli se la volevo cavoli se ero fiducioso fiducioso del fatto che il futuro di playstation sarebbe stato incredibilmente erosio se però domani uscisse una fantomatica ps6 dopo quanto visto con playstation 5 ci penserei ben più di due volte prima di aprire il portafogli e questa è indubbiamente la più grande sconfitta che qualsiasi compagnia di una qualsiasi industria possa affrontare la speranza ovviamente è l'ultima a morire spero di cuore che sony rinsagisca e possa tornare sui suoi passi spero con tutto il cuore che il 2024 possa rivelarsi come l'anno di redenzione durante il quale noi videogiocatori saremo i primi a godere di gusto però al contempo gente bisogna essere onesti e dobbiamo guardarci negli occhi perché se il buongiorno si vede dal mattino siamo veramente nella merda fino al collo grazie a tutti Grazie a tutti.